In discoteca hanno trovato collocazione e posto di lavoro due personaggi. Il cubista maschio, da un decennio c'è. Quello tutto abbronzato, dei pantaloni in pelle, degli addominali scolpiti. Grossissimo, appena lo vedi. Ciao, come ti chiami? Mattia? Quello che c'è un figlio. Poi c'è la cubista, sono delle donne meravigliose con delle gambe, dei fisici. Tu le vedi da lontano e dici, madonna guarda che polpaccio, guarda le caviglie. Camminano verso il cubo, si avvieno. Le vedi che camminano in questo modo. Che uno dice, poverina, questa si è gagata addosso. Invece hanno le scarpe della termozeta. Non so se vi siete mai viste voi donne con le zeppe. Avete quattro dita sopra, il mignolo morto senza sangue, appoggiato fuori, tutto legato. Ogni tanto il mignolo, vedi che si gira e dice, per favore andiamo a casa? Nelle discoteca di adesso hai a disposizione per ballare un metro quadro. E tu continui, dance. What you wanna dance? Do you wanna dance? Ah 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 ah. Do you wanna dance? Dopo tre ore sei sudato a fradi, cioè hai una sete, vedi il bar che è lontanissimo. Però in un tavolo del privè vedi dodici bicchieri di vodka gelata. What you wanna dance? Li prendi tutti una sera, li ho bevuti tutti. What you wanna dance? Ah 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 ah. Do you wanna dance? Ah 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 ah. Gli dico a uno, scusa il bagno? Bella di zio. Ma te l'affanculo bella di zio. Dov'è il bagno? Di là. Vedo là in fondo, in mezzo alla gente. What you wanna dance? Ah 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 ah. Do you wanna dance? Dopo mezz'ora di tragitto arrivo, leggo, donne. Minchia. Scusa, gli uomini da quella parte? Rifaccio la fia. What you wanna dance? Ah ah ah. Non ce l'ho fatta più, gli ho pisciata uno sui jeans. Lui si gira e mi fa, si suda, figa. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Verso le due e mezza, al cinquantenne non ce la fa più, vuole andare a casa, ma non trova il suo migliore amico. Perché è sempre in giro. Dove sei? Voglio essere a casa, non ce la faccio più. Per favore, andiamo a casa, sono le due e mezza. What you wanna dance? Esci dalla discoteca e vai verso il parcheggio. Il parcheggio di solito è a 300 metri. Quando esci, ti incammini. Mentre cammini, senti. Dici. Cos'è, un ufo? No, sei tu che hai il timpano lesionato, perché sei stato quattro ore a fianco alla casa. Non riesci a parlare neanche col parcheggiatore. Dov'è la mia macchina? E intanto sei il minuto. Dov'è la macchina? Lui si gira e ti fa. Poi arriva il tuo amico, ti prende la tasca, andi a far colazione! La macchina, la colazione! Dove? È tutto aperto! Non capisci più niente. Vai fuori da una pasticceria, panetteria, alle 4 del mattino, sei in fila. Fermo in fila, da mezz'ora. E in fondo la fila senti. Cappuccio e brioche, due, due, due. Cappuccio, duomolone, sì, vuoto, ah, ah, Cappuccio. Cacao, sì, buona. Una volta ho visto un pasticcero andare da una, dalla fila, tocca a te! Cappuccio e brioche alle 4 del mattino, è buonissimo. Dopo che hai bevuto 4 vodka orange in discoteca, nell'intimità del tuo letto, verso le 8 del mattino, per mezzo di una reazione chimica naturale, quando ti giri, fai una, scoreggia soltanto, una! Senti proprio! Che anche la trapunta dice, eh no, questa non ce la faccio nient'io, prendi se. Prendi la macchina per andare a casa. Mentre quindi il tuo amico mette la radio, what you wanna dance? E tu, cappuccio, brioche, 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 brioche. Si affianca la macchina dei carabinieri. Ci vuole dance? Puccio, brioche. Ci vuole, se ne vedi capuccio. Loro vedono che sei stonato. Ti fermano. Non c'è mai un carabiniere della zona dove ti trovi. Scendono dalla macchina. Entrambe voi due! Dove stiamo andiamo? Qual è il soggetto? Provi a dare delle spiegazioni, marescialo, guardi che siamo bravi ragazzi, stiamo tornando a casa. Lascia stare chi siete, chi non siete, chi anche noi. Non abbiamo il tempo di stare qua a terci cristallare. Forza! Esci patente e libro! Probabilmente una volta ho perso la patente in discoteca e gli ho detto, marescialo, guardi che forse la patente l'ho smarrita. Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io l'ho guardato e gli ho detto, di 28 ce n'è uno. Ha chiamato a rinforzi fino alle 4 del mattino. Rosso di sera, bel tempo si spera. Loro cercano di prevenire l'incidente del sabato sera con la macchina, noi provano a darti spiegazioni. Ammettiamo che uno di entrambe voi due, questa sera è uscito dal luogo della divertimentazione, è alzato un pochino l'omero, allo stop sopraggiungente arriva un altro mezzo veicolato con all'interno 4 medesimi stessi, entrambe voi 8, ma che cazzo dici 4 più 2 fa 6? Non vi fermate allo stop? Succede quello che succede. L'indomani siamo noi che andiamo dei genitori e gli diciamo, eh eh, è successo.